Il primo fine settimana del mese di maggio arriva in città con relativo seguito di buon pubblico, arriva curiosando mercatino del collezionismo piccolo antiquariato e artigianato, arriva curiosando ma sono anche in vista le elezioni regionali di fine mese dove a competere per la prima volta troviamo anche il Movimento 5 Stelle pronto a correre da solo contro tutte le altre liste in campo. E dunque la domanda che sorge spontanea perché un voto ai 5 Stelle? Perché è l'unico modo per cambiare l'attuale sistema politico in Regione, è l'unica alternativa credibile, non può essere credibile spacca che ha governato gli ultimi dieci anni la Regione e quindi è una responsabilità quasi personale come il partito che si è creato, la stessa cosa vale per il PD, non basta un ceriscioli qualunque per cancellare le malefatte di questo partito in Regione. SEL ha perso qualsiasi credibilità politica soprattutto quando adesso alcuni deputati di questo partito in Parlamento hanno presentato un disegno legge che rientroduce praticamente il rimborso elettorale ai partiti, un voto, un euro. Stendiamo poi un velo pietoso sulla coppiata Fratelli d'Italia-Lega Nord che praticamente è un trionfo di incoerenza, un partito di destra estremamente nazionalista che si allega col partito secessionista per eccellenza. La campagna elettorale, la vostra e quella degli altri? Innanzitutto che si vada a votare, è importante andare a votare comunque la si pensi perché comunque chi sarà eletto dovrà essere in qualche modo legittimato dal voto. La nostra campagna elettorale è fatta di incontri pubblici, stiamo tra la gente mentre gli altri si rinchiudono nel segreto di alcune stanze o camere di hotel e parlano esclusivamente con personaggi che rappresentano alcune categorie e quindi cercano di risolvere solo e esclusivamente alcuni problemi particolari di queste categorie, mentre noi parliamo di risolvere i problemi a livello generale, parliamo della tutela, della valorizzazione dei beni comuni che sono poi a favore di tutti quanti e non solo di qualcuno in particolare. Tre priorità per la regione? Sarebbero molte le priorità, le prime che mi vengono in mente sono il lavoro, la sanità e la scuola per il lavoro, il Movimento 5 Stelle vuole fortemente introdurre il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza che per l'Italia sarebbe una rivoluzione mentre la normalità per il resto d'Europa si riderebbe dignità a chi ha perso lavoro, una certa sicurezza a chi è in una situazione di precarietà e comunque sono soldi che poi rientrano il circolo e quindi alimentano la domanda con tutto quello che ne consegue. La sanità va completamente rivista, c'è stato un taglio dei servizi senza nessuna programmazione, senza assolutamente uno studio epidemiologico che abbia motivato queste scelte, sono scelte semplicemente politiche. Per quanto riguarda la scuola, il problema della scuola andrebbe affrontato su due livelli, il primo quello delle strutture, vanno migliorate, vanno messe in sicurezza ma fatto veramente non solamente a parole e poi c'è il problema ormai annoso del precariato, dei dipendenti di Ada e degli stessi professori che va assolutamente risolto per quanto possibile. Allora, inevitabile mettere la croce sul vostro simbolo? Sì, è inevitabile appunto se si vuole cambiare il sistema, altrimenti si rimarrà così per altri cinque anni e non so cosa troveremo effettivamente tra altri cinque anni. Il Movimento 5 Stelle è formato da persone semplici, però coerenti, estremamente consapevoli di quello che vanno a fare e quindi sono persone che rispetteranno in tutti i modi quello che è scritto nero su bianco sul programma, avranno come unico scopo quello di realizzare il loro programma.